Stato Brado è lieto di annunciare di essere stato selezionato tra i sei finalisti di musica da bere 2024. Grazie a coloro che hanno visto nel nostro progetto qualcosa di valore. Stato Brado nasce dall'unione di tre teste in nove mani. Alessio Vanni canta, scrive e sogna al microcorg. Lorenzo Valdesali ci fa vibrare la sua chitarra baritona da concerto a Greste. Lorenzo Marra, all'elettronica post-agricola, amalgama, unisce e disunisce. Vi aspettiamo al Latte più Live di Brescia, il 19 ottobre. Con affetto e sconcerto, un cordiale saluto. Stato Brado Mi ha detto un uccellino, se fa troppo rumore, non è un problema suo, ma dell'orecchio tuo.